Ma ciao! Allora, per chi non sapesse a chi appartiene questa simpatica faccia di cazzo, sono Teo Yusufian, il direttore editoriale di Cinefax.it e quello che sta un po' più dietro ai social rispetto agli altri che mi danno una mano. Non c'è più la questione degli admi, anzi sì, c'è, nel senso che non sono più da solo, a quantomeno dietro a Facebook, dietro a Instagram sono praticamente ancora da solo, a parte qualche storia che viene pubblicata da Lorenza, che approfitto per ringraziare pubblicamente. Dietro a Facebook ci sono ad esempio adesso anche Adriano Mesmo, Rina Falcone e Marco Batelli, oltre a Lorenza Guerra. Ma perché vi sto dicendo tutto ciò? E chi cazzo sono? E perché vi sto parlando? Volevo chiedervi una cosa, farvi una domanda della quale so già bene o male la risposta. Quanto vi sta sul cazzo negli ultimi tempi in un certo modo di fare informazione? Io sono assolutamente convinto e sicuro che almeno una volta in questi ultimi mesi abbiate detto eh ma che merda che è l'informazione ormai in Italia, che schifo, bufale, fake news, articoli, clickbait, roba che vai e poi non c'è scritto un cazzo fondamentalmente, o no? Secondo me sì. Perché in realtà funziona così? È semplice, è veramente semplice, nel senso che un sito internet, a meno che non abbia degli investimenti da altre parti o che comunque faccia parte di un gruppo editoriale che investe su quel sito ma guadagna in altri modi, un sito si regge in piedi con i soldi che arrivano dalle pubblicità del sito. Cosa vuol dire? Che se un utente va a vedere la pagina del sito, il sistema registra che tu hai visto la pagina, hai visto la pubblicità e quindi la sua agenzia di pubblicità, la sua concessionaria, gli fa arrivare dei soldini. Può essere Google, può essere tante altre agenzie. Quindi cosa succede? Che la stragrande maggioranza dei siti, purtroppo, approfittano di questa cosa. E quindi cosa fanno? Fanno apposta dei contenuti per invogliarvi ad andare da loro a cliccare e a farli guadagnare. Cosa comporta questa cosa? Che è un circolo vizioso di merda, nel senso che loro cercano di approfittare di voi, voi ipotetico, non voi che state guardando il video, che so che siete delle brave persone, loro cercano di approfittare di chi clicca. Chi clicca ci casca, come una pera, clicca, li fa guadagnare. Loro vedono che questa cosa conviene, perché ci guadagnano sopra, e allora continuano a farlo, sempre di più. E la gente continua a cliccarci sempre di più, e loro lo faranno sempre di più. E questa cosa non ha fine, non ha, come si dice, ipoteticamente un termine, e sicuramente non è una bella cosa, e non è un bel futuro. Cosa bisognerebbe fare? Innanzitutto bisognerebbe che la gente fosse un attimino più sveglia, e non andasse a premiare ogni volta quei siti che si comportano così, perché altrimenti continueranno a farlo e non lo smetteranno mai. Un'altra cosa è che i siti, in primis, potrebbero farsi un minimo di problema di coscienza e non farlo più. Perché dico tutto ciò? Perché noi di Cinefax.it quella roba non la facciamo. E me ne vanto, mi sono rotto le palle di fare il modesto, di fare quello che non dice le cose, anche perché di complimenti da parte vostra ce ne arrivano quotidianamente, e vi ringrazio tutti. La linea editoriale che ho dato al sito, e che ho sempre seguito fin da quando ho aperto i social, anche prima di aprire i social, quando ancora facevo solo i video su YouTube e Facebook, la usavo giusto per buttare i video... Madonna, ma ti ricordi quanto cazzo di tempo è passato che parlavo con te e facevo i video? Che bei tempi. È quella di approfondire quello che racconto, verificare quello che scrivo. Ci sono, anche banalmente, quando uno racconta le curiosità del cinema e dei film, ci sono un sacco di cagate che girano. Perché? Perché la gente la copia da un altro, che l'ha copiata da un altro, che l'ha copiata da un altro, e nessuno gli viene il dubbio di dire ma fammi controllare che cosa cazzo hanno fatto, cioè, se è vero. Un sacco di roba c'è, mi viene in mente al volo quella famosa, che è entrata anche in slevi, in patto criminale, la dice Bruce Willis, di Charlie Chaplin, che arrivò terza a un concorso di sosia per Charlie Chaplin. Non è vero, non è mai successo, non c'è documentazione in merito. Ho dovuto sbugiardarla, sta cosa sul sito. Un'altra che, Kurt Cobain, era stato, come si dice, chiamato da Tarantino perché voleva scritturarlo per part fiction nel ruolo del pusher di John Travolta, il ruolo che poi è andato a Eric Stoltz. Non è vero, non è mai successo sta roba. Però uno la legge e dice, ah, figata, la scrivo, ho chiuso il mio sito. E tutta la gente clicca. E questo qua dice, figo, ho scritto una cazzata, ma ho guadagnato un sacco di soldi. Quindi, perché dovrei spendere un'ora di tempo a verificare? Scrivo un'altra cazzata, tanto guadagno. Vedete come funziona. Noi quella roba nino la facciamo. Quindi cosa vuol dire? Questa cosa, ovviamente, a livello economico, ci danneggia, non ci viene incontro. Perché io ho sottoscritto e tutti i ragazzi della mia redazione, a partire dal mio numero due, dal mio braccio destro, l'Adriano Meis, caporedattore, al quale va tutta la mia stima e il mio affetto. In questo momento sta facendo un mazzo nell'ultimo periodo che non avete idea. A Marco Batelli, che si occupa del caporedattore News, a tutti gli altri ragazzi, Fabrizio e Jacopo, l'altro Jacopo, il Drenni, che fa le grafiche, cura la parte grafica. Adesso ho paura di dimenticarmi qualcuno, quindi faccio nomi a caso. Morena, Lorenza, Nadia, Sebastiano, Fabrizio Cassandro. Mi sto sicuramente dimenticando qualcuno, quindi scusate. Ma cominciamo a essere un po' tanti. I ragazzi che sono appena entrati in redazione, che si occupano delle news, ci facciamo tutti un culo della madonna. Ma non sto scherzando. E ognuno di noi ha un vero lavoro o una vera occupazione, che magari è lo studio. Non si dedica solo a Cinefax.it, anche perché, proprio per la nostra linea editoriale, che è improntata al rispetto, porca di quella puttana, nei vostri confronti, perché noi non vi prendiamo per il culo, noi ci mettiamo un sacco di tempo a scrivere quello che scriviamo. Andate a vedervi le ultime top 8 pubblicate. Guardate che cazzo di contenuti facciamo, ma porco cane! Ma li trovate altrove, quella roba lì? No, non le trovate altrove! Perché mi sto incazzando con loro? Magari li hanno letti. Tutto ciò per dire cosa? Che potete diventare voi i nostri editori. Voi darci una mano a crescere sempre di più. Perché raga, io ve lo dico, andando avanti così, non si cresce più. Non ce la facciamo più. Non dico che arriveremo a scrivere le bufale, perché quello è proprio contro la mia natura. Cioè, è come dire, un giorno teino diventa alto. No, è impossibile che io un giorno diventi alto. È proprio contro natura. Ecco. Però non riusciamo a darvi tutto quello che vorremmo darvi, perché costa tempo, costa fatica, costa un sacco di roba, costa mezzi. Non è che si tiene in piedi, non è gratis tenere in piedi un cazzo di mostro come è diventato il Cinefax ormai col podcast, il sito, i social, tutto quanto. E ne arriva di roba adesso, vedrete ancora. Perché ne arriva ancora? Grazie a quei Patreon che hanno deciso di supportarci. Che cazzo è Patreon? In due parole. È una sorta di raccolta fondi ad abbonamento mensile. Quindi voi decidete di iscrivervi, di supportarci, scegliete uno dei livelli, ne abbiamo sette, il più basso è due euro al mese, poi c'è cinque euro al mese che vi dà diritto. Insomma, a seconda di quello che donate ogni mese per supportarci, avete diritto a delle cose, a dei contenuti, a degli appuntamenti, a delle scelte, non voglio spoilerare niente, andate a vedere gli amici di Cinefax.it e scoprite tutto. Ce ne sono già di Patreon e già, grazie a loro, siamo riusciti a mettere in moto delle altre cose. Ma sarebbe figo se foste sempre di più. Siamo in inizio mese, quindi ve lo dico perché Patreon parte con l'inizio del mese, quindi è meglio iniziare all'inizio mese. Cosa succede? Andate a vedere che cosa c'è. La cosa che mi fa sorridere, senza guardare Facebook, che sono tipo 300.000 persone ed è un po' tanto, ma tipo su Instagram che sono quasi 100.000 ormai i follower di Cinefax. Ma raga, ma se ognuno dei follower di Instagram desse 10 centesimi di euro al mese che probabilmente frugandovi nelle tasche ne perdete per strada di più di 10 centesimi al mese, noi potremmo fare delle robe allucinanti, potremmo fare delle meraviglie totali. Non andremmo a comprarci le Lamborghini perché a parte che a me non me ne frega un cazzo di avere le Lamborghini, mi piacciono le Lamborghini. Eh, o non mi piaccia vado in giro, motorino, secondo te più Lamborghini con quello che costa di benzina a fare il cretino a Milano, ma dove devo andare? Vado in giro, motorino e faccio le cose per Cinefax. Grazie a voi. E quanto sarebbe io personalmente sono Patreon di alcuni canali YouTube, di alcuni progetti, amici non amici, cioè di alcuni che non conosco e di alcuni che seguo da anni. Perché è figo, ti senti parte di un qualcosa, ti senti un supporter. Aiuti questa persona che ti crea dei contenuti che ti piacciono a crearne sempre di più e fai in modo che questa persona sia libera da vincoli, da editori, da produttori, da scelte di qualcuno sopra. Quindi vi chiediamo di fare la stessa cosa per noi. Poi, se non lo volete fare, eh, pazienza, vaffanculo, cioè nel senso, tanto i contenuti vi rifacciamo lo stesso, non è che non vi rifacciamo più. Però ci dareste veramente una mano a migliorare. Ma tanto. E non lo dico per scherzo, perché lo stiamo già facendo con i Patreon che abbiamo adesso. Quindi più ne abbiamo, più figate faremo. Ve lo posso assicurare. Ogni anno, da quando è nata Cinefax, è arrivata una grossa novità. Arriverà anche a fine anno, ma non spoilero. Arriverà anche nel 2022, ma non spoilero. E noi, raga, vogliamo crescere. Sempre nel rispetto di voi, ma anche nel rispetto di noi stessi. C'è anche questa la cosa. Ma un redattore di quei siti che scrivono le cagate. Ma zio, ma come fai a guardarti in faccia al mattino? Ma non ti fai un po' schifo, cazzo? Vai a letto tranquillo? Ah, oggi ho scritto una fake news, oggi ho scritto una bufala. Ah, hanno cliccato in tanti. Sono un figo. Ne? No? Tutto bene? Dormi tranquillo, sereno, ti svegli, ti lavi la faccia, ti guardo allo specchio e sorridi? Non so come tu faccia. Io non ce la farei. Ma al di là di questo, raga, detto ciò, io vi voglio bene, perché comunque ci seguite. Fateci sapere sempre tutto, dimenticateci feedback su tutto, su come va Patreon, su come va il podcast, su come va il sito, su come va i social, le rubriche del sito, abbiamo delle rubriche, raga, che non c'ha nessun altro! Non mi fate arrabbiare, perché è vero, non voglio fare il figo. Ma non ce le ha di solo le rubriche che c'ha Cinefax.it, porca di quella puttana, con la cura che ci mettono i ragazzi per scriverle su quelle rubriche lì. Andate a controllare, io vi sfido, andate a controllare. Voglio vedere che cazzo c'ha una rubrica sugli animali nel cinema. Voglio vedere che c'ha una rubrica su cinema e birra, che vi consiglia quale birra bere a seconda del film che state guardando. Ma non a caso, pensate alla cosa. Cinema e filosofia, le carriere dei attori e attrici, me le sto dimenticando tutte. C'è quella sul diritto d'autore che vi spiega tutta la parte legale del cinema. Ma ce ne sono e stanno arrivando anche altre, vedi? Ogni volta aggiungiamo roba. Ma da soli, dopo un po', con le gambine corte, e se lo dico io potete crederci, non ce la si fa. dateci una cazzo di mano e vi verrà anche a voi una cosa più utile, una cosa più figa. Il primo livello sono due euro al mese. Non ce ne avete due euro al mese? Pazienza, non ce ne avete. Potete fare un mese sì, un mese no. Potete fare tre mesi e poi andarvene. Potete fare l'abbonamento annuale che vi dà diritto a uno sconto della Madonna su tutti i livelli che scegliete. Mi sembra il 15%, ma non vorrei dire cagate, magari non lo è, e dico cagate, ma non voglio, e quindi fate finta. Però c'è uno sconto della Madonna se scegliete di stare 12 mesi come nostri supporter invece di uno solo. Fate un po' come volete, però ecco, volevo dirvi questa cosa perché io non ce la faccio più di vedere le cagate. Anche un paio di settimane fa quando è successo quello che è successo sul set di Rust che ha visto coinvolto Alec Baldwin, ma avete visto come cazzo l'hanno data la notizia quasi tutte le testate? Apposta per farvi cliccare sulla roba, l'hanno data nel peggior modo possibile, ma anche testate grosse, non solo quelle che si occupano solo di cinema, Alec Baldwin uccide una donna sul set. Ma che cazzo di modo è di darla? Imbecille! Tu che hai scritto quella roba ti deve cadere una mano! Cazzo! Rispetto nei confronti di te stesso, nei confronti della vita, della famiglia, della direttrice della fotografia Alina Hachins che ha perso la vita, nel rispetto di Alec Baldwin che non l'ha fatto apposta a uccidere una, ma è il modo di dare un titolo? Cretino! Adesso mi beccherò delle querele, però non sto facendo nomi. quindi... Raga, non lo so, io da una parte sono arrivato, non ce la faccio più di vedere questa cosa, questo circolo vizioso e di merda, dai! Cioè, loro ne approfittano, la gente ci clicca, loro guadagnano, ne riapprofittano, la gente ci clicca, e in tutto ciò la gente dice eh ma che informazioni di merda che c'è! E grazie, sei te che la sovvenzioni, che fai in modo che questi vadano avanti, ma non farlo! Vedi un titolo del cazzo, scrivi, bel titolo del cazzo che avete scritto, non clicco il vostro sito! E vedi che dopo un po' questi qua, se a fare quella roba non ci guadagnano, cominciano a farla meno! Se vedono che funzionano altre cose, cominciano a fare quelle cose! Perché è così che funziona il cacchio di libero mercato! La gente va dove si guadagna quelli che non hanno scrupoli, che non se ne sbattono di una linea editoriale che ha dei paletti grossi come quelli in piazza San Pietro a Roma, come la nostra! È così che vanno le robe! Non incazzatevi per l'informazione di merda se siete i primi a fare in modo che quella informazione di merda continui a crescere rigogliosa! Aiutate chi invece non fa informazione di merda! Vi dico un nome? Il nostro! Cinefax.it Date vedere sul sito su www.gliamici.it Vedete? Cosa vi piace di più? I livelli sono sette! Potete fare un po' quello che volete! Tutte le tasche, un sacco di ricompense, un sacco di cose! Stiamo mettendo in ballo tutto! Stasera abbiamo una riunione di produzione! Dopodomani facciamo la live pubblica su Facebook e YouTube con voi! Ce n'è raga di roba! Ce n'è! Grazie sempre! Vi voglio bene! Andate al cinema! Mi raccomando! E... Alla prossima! Ciao ne!